E' stata presentata la tredicesima edizione della regata internazionale Est 105 Bari, bocche di cattaro, evento sportivo organizzato dal CUS di Bari con lo Yachting Clan Porto Montenegro. Tante importanti le novità di questa nuova edizione, tra queste l'unificazione delle regate orche libera, che partiranno entrambe dalle acque antistanti il CUS Bari nel pomeriggio del 27 aprile e arriveranno nell'unico porto di approdo Porto Montenegro Yachting Club di Tivat, considerato uno dei porti turistici più prestigiosi e interessanti di Europa per le imbarcazioni nelle bocche di cattaro. Un motivo d'orgoglio per gli organizzatori ma anche e soprattutto per la città di Bari, sempre più protagonista grazie ad una manifestazione che coinvolgerà numerose imbarcazioni. Quest'anno si riunifica il punto di arrivo che sarà Tivat presso il Yachting Club Porto Montenegro. Ci sono altre novità importanti perché partiamo, cambiamo l'oreale di partenza, non più il classico a partenza alle 12, ma quest'anno partiamo alle 6 e 30 e 18 e 30 qui nel pomeriggio, quindi proprio sulla linea del tramonto per poi virare e andare verso il Montenegro. Altra novità, ci siamo spostati come zona di partenza. Non partiamo più da Lanza di San Nicola che nonostante un posto meraviglioso ma molto lontano delle barche non potevano avvicinarsi alla costa. Adesso proviamo a partire di fronte all'ingresso monumentale della Fira del Levante dove le barche per questione di fondare potranno avvicinarsi e quindi lo spettatore da terra potrà godere meglio la partenza. Attualmente le barche, le iscrizioni sono ancora aperte fino a sabato prossimo, attualmente sono 63 iscritti. Un'occasione anche per ribadire un forte legame fra i popoli dell'area balcanica e mediterranea con la nostra città di Bari. Il simbolo della nostra università è un faro che guarda verso il mare, quindi l'attenzione per gli sport velici e più in generale per gli sport del mare è sempre massima da parte della nostra istituzione ma soprattutto anche i rapporti fortissimi con l'altra sponda dell'Adriatico, quindi con il Montenegro e con l'area balcanica in generale che partecipa alla regata anche attraverso le proprie imbarcazioni e anche attraverso le università montenegrine e serbe.